Pulei, drivitelli e pecore, decine di animali uccisi dai lupi e rimborsi che arrivano a passo di lumaca o che non arrivano affatto. E a volte per gli allevatori tutto si saurisce in miseri acconti da parte della regione Abruzzo. Portare avanti un mestiere come quello dell'allevatore e dell'agricoltore oggi non è affatto semplice, soprattutto quando le culture, pascole e le aziende agricole sorgono al confine con un'area protetta o con un parco nazionale e la fauna selvatica è tutelata. Troppe le competenze e le responsabilità che si intrecciano, confusi i confini dei controlli. Gli allevatori si sentono soli, da torni in parte a Luco, Liaragno, Pescassero, Ligoriano Sicoli, Scanno, decine di migliaia di euro che vanno in fumo ogni anno per i danni provocati dalla fauna selvatica mettendo in pericolo l'esistenza delle aziende. Tante in queste settimane le voci che si aggiungono a quella del vice sindaco di Pescina, Tiziano Giulianella, allevatore che il 9 luglio scorso protestò con uno sciopero della fame davanti alla sedia aquilana del Consiglio regionale contro i gravi ritardi con cui la regione Abruzzo paga i danni subiti dalla categoria. Metter mano alle esigue casse regionali per distribuire rimborsi non basta e non può essere sufficiente, come spiega l'assessore regionale dell'agricoltura, Emanuele Imprudente, che descrive le azioni che la regione vorrà mettere in campo di qui al futuro. Come stiamo affrontando per quelle che possono essere le competenze della regione Abruzzo? Innanzitutto non è che c'è una soluzione come dicevo prima unica, ma è un'articolazione di problematiche. La verità qual è? È che l'equilibrio che la natura ha fatto l'uomo l'ha modificata e oggi o dobbiamo far passare tantissimi anni e quindi la natura fa da sé o l'uomo deve intervenire per ristabilire gli equilibri. Il nuovo piano fonistico venatorio che è in approvazione, porteremo la legge entro l'autunno in approvazione, prevederà tutta una serie di interventi che riguarderanno per ridurre soprattutto quelli che sono i danni legati ai cinghiali. Legati con una nuova legge regionale che cambierà il regolamento di gestione e le competenze anche di controllo che oggi sono piuttosto confuse sicuramente sono una serie di azioni che porteranno a ridurre questo tipo di problemi. Parallelamente, e la legge lo stabilisce, la legge nazionale è un altro intervento legato alle aree protette dove anche lì in alcune realtà già si è partiti possono essere fatti dei piani di contenimento. Parallelamente a questo è necessario rivisitare la legge nazionale sulla caccia che è quella che per alcuni animali, ad esempio, parlando di cinghiale, sarebbe importante anche allungare da tre a quattro mesi, ma non è una competenza regionale, è una competenza nazionale.